Io credo che addirittura ad arrivare a questi turpiloqui politici che non hanno alcun motivo di esistere, beh, io credo che assolutamente non ci sia alcun tipo di motivo, perciò io quello che posso sicuramente dire è che quando si è una festa allora ci si ritrova un attimo in una foga, no? C'è una foga incredibile, cioè il tuo popolo, cioè sarebbe la festa d'Italia Viva, no? E chi ci doveva essere la festa d'Italia Viva? Ma c'è ovviamente Matteone Renzi, il buon Matteo, a presto, a voi in alto di sempre i 100.000 iscritti, attivate la campanella sotto per ogni aggiornamento di cuore, grazie a ognuno di voi. Quindi arriva Matteo Renzi che racconta tutta la storia del terzo polo, come è nato il terzo polo, che quando è nato cinque anni fa e in quel momento storico è anche una bella idea, ma calenda una foga autodistruttrici. Capito? Calenda una foto istruttrisce. Quindi lui, come altri che vivono di lancore, non guardano al futuro. Da stupidi, da stupidi, che stupidata gli ha dato dello stupido. No, non è il pubblico che era lì alla festa d'Italia Viva ha dato dello stupido. O comunque qualcuno deve essere infitlato per la zella di Toscusi, lei che offende Calenda? Lei è uno stupido, Renzi, lei è uno stupido, lo sa? Stupido è chi stupido fa? Dovrebbe rispondere, è uscito fuori il fiorentino, il toscano è lui. O come si dice, ma nel senso buono, è toscanaccio, è lui, perché è bello virale, è bello laid corrotto, mi direbbe buon Giorgiore, che saluto, mi dico Giorgiore. E dà solo la colpa a lui. Ma io, per il momento storico attuale, è vero, molti stanno volando Calenda, ma molti stanno volando anche lo stesso Renzi. E quello che sto vedendo in questo momento è che Italia Viva è al 2%, sotto il 2% e tutta orazione, anche se leggermente scese, chiaramente. Però comunque è sempre stato al 2% in più, quasi. Ora è al 2,8%, però è sempre stato superiore al Renzi. Ora, io mi domando. Matteo Renzi è stato presidente del Consiglio, si chiede tra i PD, ne ha fatti una peggio di Bertoldo, una meglio, poi stavo a decidere. Però, con un partito come il suo al 2%, sotto il 2%, come fa a avere tutta questa notorietà? A parte il ritorno al centro-sinistra campolare. Ah, poi tra l'altro diceva Meloni che non è in grado di governare per i prossimi 5 anni, però sono ormai due anni, sarebbero circa, con un secondo mandato, almeno 8 anni, 5-5. Dettagli, ritemi la vostra nei commenti.